Musica Per Dentro la Franciacorta ci troviamo quest'oggi a Erbusco a conoscere un volto nuovo della moda. Lucia Andreoli, hai da poco aperto il tuo atelier. Come nasce questa passione? Sì esatto, ho aperto il mio atelier da circa due mesetti qua a Erbusco e la mia passione nasce da un po' di anni quando ho iniziato a studiare moda. Adesso sono sei anni che studio moda. Lavoro nella moda da circa tre o quattro anni dopo aver fatto uno stage a Brescia in un atelier di abiti su misura e adesso stavo facendo abiti da sola da un po' di tempo e finalmente ho aperto il mio atelier così ho il mio spazio per cucire e per creare questi abiti. Quale percorso scolastico ti ha portato a rincorrere e raggiungere questo tuo sogno? Ho fatto quattro anni in un centro di formazione professionale in dirizzo moda a Brescia che si chiama CFP Francesco Lonati. Poi ho fatto la quinta nell'Istituto Stradivari a Cremona perché Lonati finiva con il quarto anno in modo da poter fare anche la maturità e adesso sto facendo un corso biennale a Milano nell'Istituto Secoli di specializzazione modellistica. In piena pandemia sei diventata famosa su TikTok, quasi 700.000 follower. Quanto ti hanno aiutato i social in questa tua attività e come li stai usando? Sì esatto, ho iniziato a creare video nella pandemia quando c'è stato più tempo libero. Infatti era da tanto che volevo creare video anche su YouTube e così ma da quando c'è poi stata la pandemia ho avuto più tempo libero e ho iniziato a realizzare questi video ed è stata una grande vetrina perché ho avuto un sacco di persone che hanno iniziato a seguirmi che ancora oggi mi seguono e adesso sia TikTok che Instagram e da lì poi mi contattano le ragazze per commissionarmi gli abiti. Infatti li spedisco poi in tutta Italia a parte quelle che poi sono anche della zona o che riescono a venire in atelier per provarlo, per crearlo insieme. Creazioni e prove con un atelier vista Franciacorta? Sì esatto, sì sì, ho una vetrina qua vista Franciacorta proprio a Erbusco e appunto le ragazze che sono nella zona o che hanno la possibilità di venire a provarlo possono venire qua, prendiamo le misure, creiamo insieme un'idea, un disegno e poi possono venire anche alla prova in modo da vedere tutte le cose che sono in caso da modificare, da aggiungere e in questo caso c'è anche la possibilità sì di venire alla prova Franciacorta. Giovanissima, con le idee ben chiare, cosa consigli a chi alla tua età vuole intraprendere questo percorso? Sicuramente tantissima passione che comunque deve esserci già se si vuole intraprendere una carriera così creativa e tantissima pratica sicuramente, che oltre alla scuola quello in cui ho imparato più tanto è stato fare pratica. Un sogno nel cassetto? Sicuramente continuare con il mio atelier, diciamo che è un grande sogno già stato esaudito e sì continuare così è sempre meglio, sempre più grande. Tra personaggi famosi in mondo dello sport piuttosto che della canzone della politica, chi vorresti vestire? Ah beh, sono un po', diciamo che alcune ragazze magari conosciute comunque sui social così ho già avuto la possibilità di fare qualche abito per delle ragazze comunque conosciute. Un po' di personaggi sarebbe, non so esattamente quali però comunque... Grazie a tutti!